3 cripto da comprare subito e una da vendere da vendere insomma vabbè allora bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a fare un video completamente diverso dalla solito e andiamo a comprendere quali sono delle criptovalute che in questa fase possono avere un'appetibilità per un orizzonte temporale di breve quindi una settimana circa nel brevissimo e quale invece è una cripto da teoricamente vendere oppure semplicemente non avere perché potrebbe performare un po' peggio è un format nuovo ragazzi una cosa completamente diversa che volevo fare anche in fase di ATH di Bitcoin che in questo momento sta sviluppando un nuovo e notevole diciamo punto di ingresso nella sua nuova fase di Price Discovery quindi nuovo ATH di Bitcoin ed è fantastico insomma da andare a visualizzare e quindi in premio a questo ATH di Bitcoin facciamo un contenuto completamente diverso molto più operativo molto più diciamo di natura trading fatemi sapere cosa ne pensate soprattutto iscrivetevi al canale ma lasciatemi pollici ragazzi perché questo è un content un po' particolare voglio capire se vi piace allora facciamo anche un test io oggi vi regalo un'altra piccola bomba cioè una super promo che è dell'exchange di BitGet ragazzi ma in base anche a questa promo fatemi capire se questo tipo di contenuto vi piacciono o meno allora 600 dollari la risposta di BitGet la promo di Bybit e va bene perché ci regalano diciamo del cash quindi va bene ottenibili 600 dollari in posizione future di BTC o Ethereum da link che vi lascio in descrizione con il deposito di 150 dollari trade di 1000 dollari praticamente niente aprite e chiudete vi regalano questo bonus che è utilizzabile come un bonus future una posizione future che ovviamente quando la vendete potete intascare tutto il ricavato e anche prelevabile quindi utilizzabile fateci quello che volete se non la chiudete magari questa posizione in positivo e perde ovviamente la perdita è 0 mentre se invece perché comunque ve l'hanno regalata mentre se invece la andate a chiaramente incassare guadagnate qualcosa quindi link in descrizione e anche per partecipare a questa fase rialziste e poi visto che non volevo far torto a nessuno ragazzi come per l'altra prova che stiamo facendo parte anche da oggi la questione dell'Altsison 25 anche per gli utenti registrati da BitGet sul link che vi lascio in descrizione UID comunicato il giorno lunedì prossimo sul canale Telegram alle ore 20 UID che vince 250 dollari questa volta prelevabili interamente da link che vi lascio in descrizione faremo il strazione e poi ogni lunedì parteciperanno anche gli utenti iscritti dal canale su BitGet è il mese del Black Friday ragazzi e vabbè ci diamo la pazza gioia anche in base di queste ATH quindi valerà sia per gli utenti by Bit sia per gli utenti BitGet link che vi lascio in descrizione passiamo alla questione legata alle tre criptovalute che secondo me possono essere utili in questa fase da andare ad analizzare ho preparato anche quelli che sono alcune cose da visualizzare e da analizzare in maniera tecnica quindi faremo analisi tecnica della criptovaluta in termini sia di grafico settimanale barra giornaliero e poi di grafico invece di breve periodo per andare a individuare quelli che sono i supporti resistenze importanti e la parte operativa poi l'analisi ciclica di tutte queste cripto tre cripto più una che invece non sa da fare come si suol dire allora passiamo alla prima cripto in questione che è Injective ragazzi allora Injective è una cripto che sta avendo un atteggiamento un po' particolare io l'ho analizzata su due grafici differenti il primo analisi tecnica la analizzeremo sul grafico settimanale e poi passeremo al grafico invece a tre ore che è un grafico di natura operativa perché questo video ragazzi si indirizza allo short term e all'operatività che può essere utile nei prossimi giorni questa settimana e anche un po' dell'altro perché probabilmente se vi piace questo format poi lo faremo il mercoledì allora sostanzialmente il concetto di questa analisi è un rimbalzo da questa area di minimi questa area di minimi molto importante che è a retto e sta spingendo un rimbalzo questo è un grafico a time frame weekly ragazzi che da un punto di vista anche di superamento del livello di resistenza il primo minimo sforzo lo ha fatto tra le altre cose c'è anche la doppia media mobile che vedete in questo contesto che era una media mobile che aveva indicato una chiusura importante con una inversione le due media mobili sono sul settimanale 26 e 52 settimane sono medie mobili di lungo lunghissimo periodo perché ragionano in termini di 6 mesi barra un anno e quindi il concetto è che fin tanto che Injective resta in mezzo a queste due medie a livello di trend settimanale ancora non si è invertito siamo in barra di congestione ma è difficile in questo momento comprendere se poi effettivamente questa cripto avrà la forza di fare il break ma ovviamente ovviamente a noi interessa nello short term ragionare sulla possibilità che se questa cripto fa l'inversione quindi va sopra queste due media mobile e inverte il trend che era iniziato in questa fase e chiuso probabilmente a settembre se lo fa poi inizia un nuovo trend e ci dà tanto margine di fare dindini ed è quello che a noi interessa quindi non possiamo aspettare la conferma ufficiale su un grafico del genere come quello settimanale perché è troppo lungo dobbiamo far il tutto su un'anticipazione di questo livello e quindi da questo punto di vista Injective entra in questo nuova analisi poi da un punto di vista invece short term andiamo a vedere quelli che sono i grafici di natura di breve e analizziamo anche la questione ciclica di breve c'è stata la chiusura di un primo ciclo trimestrale di Injective fatto a tre tempi e chiuso in questo punto la conferma con questo mega rialzo ce l'ha data inutio nuovo mensile e poi probabilmente anche nuovo trimestrale la fase attuale è una fase di debolezza e congestione che dovrebbe essere la fase di chiusura della primo ciclo bisettimanale cioè di metà del ciclo mensile potremmo in effetti poi assistere ad una fase di recupero che romperà anche questi massimi e quindi a un punto di vista short term è interessante valutarla ovviamente il trigger point per l'ingresso in posizione io non lo utilizzerei mai in buy the dip non mi piace fare questa strategia per quanto riguarda le cripto ma ognuno di voi può fare quello che vuole ovviamente non sono consigli finanziari in nessun modo perché ognuno ha le proprie strategie dovete avere strategie e conoscere lo stop loss come si inserisce il trading plan pianificare ogni cosa per questo tipo di logiche se non lo sapete fare formatevi prima perché la cosa più importante anche in vista dell'eventuale alt season e di quello che avete visto già come avvisaglia nel mese di novembre che può succedere quando le altcoin iniziano a spingere in maniera considerevole allora formazione è la prima cosa che vi cambia in questi prossimi mesi allora questa struttura quello che potrei decidere di fare io essenzialmente è ragionare su due livelli questo come livello di supporto se dovesse andare a appoggiarsi qui e poi un secondo livello quello di ingresso che dovrebbe essere in questo contesto dato dalla trendline breakout della trendline in questo caso e come primo punto di ingresso dividerò la posizione in tre punti il primo con la trendline il secondo a superamento di zona 26 e il terzo a superamento di questi massimi direttamente uno due tre punti di ingresso per Injective per questa cripto che potrebbe essere in effetti molto molto ghiotta nei prossimi nei prossimi giorni fatemi sapere anche voi cosa ne pensate se l'avevate in portafoglio la state monitorando sì o no seconda cripto in questione una cripto che sta a cuore a molti ed è curve ragazzi cioè questa criptovaluta della legata alla questione della DeFi molto più debole di Injective ma anche per questo molto più rischiosa e anche per questo molto più ghiotta da un certo punto di vista perché potrebbe fare nuovi movimenti stesso concetto legato all'analisi tecnica che abbiamo visto finora il rimbalzo attuale ha toccato un fondo in questa zona a novembre e ha fatto tre candele settimanali rialziste che però si sono scontrate con un livello della media mobile ora solo l'inversione al di sopra del livello della media mobile in primis ma poi solo il superamento addirittura di questo livello sancisce l'inizio di un nuovo ciclo annuale da questo minimo e quindi la partenza con curve di un trend interessante ma guardate quanto livello c'è se andiamo a considerare i rialzi da questa zona qui parliamo di un 147% aspettare una cosa del genere sarebbe assurdo quindi anticipiamo anche in questo caso con stop loss molto stretti e tentiamo di fare delle operazioni di breve periodo andiamo a comprendere la questione ciclica legata al breve periodo con circa 90 giorni chiuso un ciclo trimestrale in questa zona qui partendo da questa fase è un ciclo trimestrale rialzista che quindi indicherebbe l'inizio di un nuovo annuale ma qui c'è tutto poi da fare un ragionamento particolare con eventuali eccezioni e bla 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 ma a noi non interessa perché siamo short term short term c'è la chiusura di un ciclo di natura di metà mensile che sta facendo in questo momento quindi un'eventuale fase di ripresa potrebbe essere interessante per quanto riguarda curve ci sono delle tecniche secondo me differenti da utilizzare rispetto a injective intanto i livelli di supporto sono all'interno di queste due medie mobili da considerare come importantissime il time frame utilizzato in questo caso è il 3 ore lo stesso era quello di injective mi ero dimenticato di dirlo ragazzi comunque io utilizzo questi che tra l'altro sono anche i miei grafici che utilizzo anche in academy ragazzi quindi mi raccomando per questo video datemi una mano col canale pollicione in su raggiungiamo i mille mi piace soprattutto se vi interessa bitgetter non siete ancora registrati iscrivete in promozione che mi date una mano con i ref allora la questione legata a questa struttura che secondo me potremmo ragionare su due livelli qui un buy the dip in mezzo a queste due medie lo potrei anche leggermente accettare ovviamente di un terzo della posizione con uno stop loss un po' larghetto che dovrebbe essere posizionato in questa zona quindi dovete tenerlo in considerazione perché effettivamente insomma anche un buy the dip in questa parte qui indica un 13% di stop loss quindi molto molto ampio e poi invece sempre la questione legata all'inversione della trend line quindi una roba del genere con un punto di ingresso secondario in questo punto e poi il superamento di due livelli questo swing qui 0.41 e poi questo swing qui 0.43 e mezzo anche in questo caso userò tre punti di ingresso per questa criptovaluta passiamo alla terza cripto e poi vi dico quella che invece è 9 e che non performa bene e che non piacerà a molti di voi allora andiamo a vedere l'altra cripto che è Nier che tra le altre cose è una cripto interessante perché anche questa da pochissimo sembra aver iniziato una nuova fase di ciclo annuale e che diciamo potrebbe essere in effetti nella fase proprio iniziale ancora una volta la questione di Nier indica anche in evidenza agosto in questo caso ottobre e anche in questo caso secondo me parla chiaro la chiusura del grafico settimanale che ci indica una chiusura ciclica secondo me verso la zona di ottobre bisogna vedere perché è passato ancora troppo poco tempo per questa cripto che è la più rischiosa secondo me ma è anche la più vantaggiosa proprio perché è anticipata ed ha un segnale che non mi dispiace le medie mobili sono già superate sono già state superate in fase di breakout e non è male questa cosa abbiamo superato anche il primo scoglio in questa zona stiamo facendo una specie di pullback non mi piace questo breakout è fake secondo me perché è troppo leggero rispetto a questo massimo e poi soprattutto perché ha retto l'altro massimo quindi a 6 dollari e 50 quindi va tenuto in considerazione che servirà un altro impulso per dare il segnale vero di inversione a questo trend questo trend al momento non è invertito è in un punto interrogativo dobbiamo avere un altro segnale di inversione noi traderemo proprio nel breve quel tentativo eventuale di inversione perché anche Near come le altre ha chiuso un ciclo trimestrale da 90 giorni in questo punto e sta facendo una metà del ciclo mensile è la posizione identica alle due successive qui le medie mobili sono state rotte più debole dalle altre chiuderà questo ciclo mensile tre punti di ingresso anche in questo caso il primo è la zona all'interno di questa congestione qui intorno ai 5 dollari e 20 può essere utilizzato come i buy the dip ma fate molta attenzione perché la canitto è molto debole e potrebbe prendervi lo stop loss quindi ovviamente solo un terzo della posizione con uno stop loss almeno intorno all'8% di questa fase dopodiché bisognerà andare a ragionare ancora una volta sulla trendline in breakout e qui non è possibile ragionare sul massimo quindi qui bisognerà scaglionare diversi ingressi gli altri due mancanti alla trendline e poi al superamento magari del primo livello intorno ai 5-8 in questo caso qui siamo troppo in alto bene allora queste sono le tre criptomast secondo me per le prossime giorni da comprare subito io avevo scritto nel titolo ma ovviamente non sono consigli finanziari è un titolo ok mi raccomando e soprattutto non è da comprare subito perché vi ho indicato anche i livelli che vanno tenuti in considerazione tra le altre cose io qui sto utilizzando un giochettino che è uno dei miei pattern preferiti i ragazzi di academy lo conoscono che lo spiego nel mio corso basic 2.0 ed è un pattern veramente interessante che funziona anche molto bene un giochino che ci fa entrare anche in posizione in maniera molto più accurata sul mercato delle criptovalute allora detto questo le tre cripto le abbiamo viste ora il dramma ragazzi qual è la cripto che sta facendo schifo ed è un parolone in questi giorni ahimè ragazzi la cripto forse un po' l'avete fiutata è ethereum in questo caso perché eth sta performando malissimo in questa fase ma soprattutto è in una fase molto particolare anche da un punto di vista di livello ciclico perché sì probabilmente qui siamo all'inizio di un nuovo ciclo annuale a settembre ma la struttura ciclica di eth lo vede con una diciamo creare dei cicli di natura più o meno semestrale corti da 110 120 giorni che scadono a fine dicembre in pratica questa settimana guardate che settimana di inversione che candela di inversione che è andata a creare pericolosissima basta il breakout di questo minimo a livello settimanale per dare spazio ad una shadow ribassista e quindi confermare un segnale al ribasso ovvio ancora il segnale al ribasso non è avvenuto assolutamente però rispetto alle altre cripto questa è più debole quindi io qui vi avevo promesso una cripto diciamo che da vendere un parolone in questo contesto ma da monitorare fortemente io ovviamente non faccio short in questo caso non farei short su questa cripto andiamo a vedere da un punto di vista ma non la prenderei ecco quello è il concetto andiamo a vedere da un punto di vista di ciclicità che cosa è successo anche qui abbiamo delle strutture qui abbiamo il problema agosto o settembre ancora una volta su eth che a livello di struttura settimanale sembra proprio indicare una chiusura anche lei a settembre se così facciamo guardate come cambiano un po' le questioni perché da qui sembrerebbe mancare la chiusura del trimestrale e anche per questo forse che ethereum è più debole delle altre perché qui abbiamo uno due e manca l'ultimo mensile che chiude il trimestrale che ovviamente essendo l'ultimo potrebbe aver fatto il massimo in questo punto con grande tranquillità e poi fare una roba del genere per chiudere il trimestrale entro la decade di dicembre ovvio che una cosa del genere fa risultare questa cripto molto più debole e quindi bisogna fare molta attenzione dove potrebbe recuperare forza non solo il superamento di quota 3200 dollari ma dovrebbe superare questi massimi perché anche un'eventuale fase di recupero in questo momento non ci protegge da questo atteggiamento anzi sarebbe il punto d'ingresso di uno short una roba del genere e in effetti è questa l'unica strategia possibile su eth nei prossimi giorni se effettivamente dovesse rimbalzare in questa zona che adesso vi faccio anche vedere cioè questa zona qui di pricing se rimbalza intorno a questa zona abbiamo trovato utilizzando i fibonacci cioè zona 3300 si può valutare un eventuale short con lo stop loss al di sopra dei massimi e sarebbe insomma anche consono ragionare in questo modo bene fatemi sapere cosa ne pensate ovviamente attenzione perché TH stiamo parlando di breve periodo non stiamo parlando di lungo periodo chiude il 10 dicembre questa struttura che vi ho mostrato quindi mancano pochissimi giorni poi da lì in poi potrebbe diventare anche ghiotto ma ne parliamo poi con calma vi ricordo la promo di BitGet in descrizione ragazzi 600 dollari a chi si registra dal link con Position Future completando le task che sono richieste ma partecipate all'estrazione di Beguay lunedì prossimo sul mio canale Telegram pubblicata 250 dollari Tether vengono inviati all'UIT che viene estratto e non sono in questo caso Position Future sono reali e stop fatemi sapere cosa ne pensate noi ci rivediamo nel prossimo video ciao ciao